Un po' di lucidità e forse in alcune situazioni un po' di coraggio. Diciamo che è normale, io credo, per una squadra che ha iniziato a lavorare insieme da poco tempo, non essere ferrati su alcune situazioni. Comunque non è mai facile quando dall'altra parte si ha una correttata come gli Stati Uniti, che magari ha anche da più tempo un po' più di feeling. Quindi, niente, sarà per la prossima volta. Sì, rispetto a ieri abbiamo dimostrato di voler qualcosa di più, abbiamo lottato su tante situazioni, quindi va bene. Tutte insieme abbiamo switchato dopo quel primo set perché eravamo sicure che non volevamo questo. Bene, come atteggiamento c'è stato un'aggiunta di energia rispetto a ieri. Possiamo fare qualcosa di meglio, ne sono certa. Ci diamo tempo. Oggi abbiamo tirato fuori il jolly e tifavano per noi. Domani ti faranno per, ovviamente, la loro squadra. Sarà lo stesso molto bello, ci sarà un palazzetto molto caldo, come l'abbiamo potuto vedere dalla nostra stanza d'hotel. E va bene così. Noi, sarà divertente anche la partita di domani. electrica sense di movie crema. So, è vero? So, è vero? Grazie a tutti